Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Ci troviamo in Contrada Piana Scunchipani con Gabriele Ciaccio, che è il nuovo presidente del Comitato di Quartiere. Questo comitato in pochi anni ha realizzato tanti progetti. Ricordiamo l'iniziativa di qualche anno fa, prima della pandemia, con l'Aeronautica Militare e con Rosario Vitrano, che è il presidente uscente e che si è prodigato tanto per questa zona. Adesso c'è un nuovo direttivo con altri programmi, ma si parte dalla tutela di questa zona, che sul piano delle politiche in materia ambientale è sempre molto attenta, come ci conferma, immagino, anche Gabriele. Sì, come ha detto lei, abbiamo un nuovo direttivo nel Comitato di Contrada Chiana, che in verità è un'associazione vera e propria, costituita nel 2005. Siamo molti associati, più di 160. Colgo l'occasione per ringraziare il direttivo uscente e anche l'ex presidente Rosario Vitrano, che hanno fatto tantissimo per questa contrada. E noi continueremo nel solco e nella continuità con quanto ho fatto nei tre anni precedenti. Chiaramente le problematiche sono molte qui alla Chiana Scunchipani. Naturalmente le problematiche legate al mondo agricolo, all'aumento dei canoni rigui, un problema che è sorto in questi ultimi giorni e che vede delle somme spropositate a carico degli agricoltori. E non per ultimo naturalmente la tutela del paesaggio e la lotta contro l'inquinamento. Non ne lottiamo contro le persone, ma contro l'inquinamento e il degrado ambientale. Naturalmente ci stiamo riferendo al biodigestore che è sorto nei locali dell'ex stabilimento Cronion e che ancora non ha visto la nascita vera e propria. C'è il biodigestore ma ancora non è attivo. Stiamo qui a vedere che cosa succederà nei prossimi mesi. Voi avete dato un bel esempio nei mesi scorsi anche per quanto riguarda il controllo per evitare l'abbandono dei rifiuti. Questo è un punto importante perché questa è una zona nella quale ci sono le produzioni agricole di maggior pregio di tutto il territorio. Sì, il merito è del Presidente uscente Rosario Vitrano che si è praticato molto. Sì, abbiamo visto che c'era il continuo abbandono dei rifiuti in questa zona qui vicino e da alcuni mesi, da più di un anno, vi è l'Ecobus che ogni giorno staziona qui e quindi raccoglie i rifiuti e riceve i rifiuti portati dagli abitanti. E qui in questa zona naturalmente ci sono tantissime aziende agricole, ci sono aziende che producono il biologico e quindi vogliamo mantenere la bellezza e proteggere la bellezza di questo luogo. È il minimo che possiamo fare insieme ad altre iniziative che porteremo avanti. La bellezza dei luoghi è l'aspetto principale che ci sta a cuore e che mi sta a cuore. Vorrei che qui continuasse ad essere questo bellissimo posto, questo bellissimo paradiso veramente che abbiamo a nostra disposizione. Sta a noi proteggerlo e tutelarlo.